Ancora siete fuori casa, state dimostrando che dentro la rete raccogliete pochi palloni? Sì, per fortuna sì, l'importante è sempre che se uno si difende bene, prima o poi il gol viene. L'importante è non riuscire a non prendere i gol, ci siamo migliorati molto su questo, siamo una difesa molto solida, oltre la difesa anche tutta la squadra. Poi oggi Matti ha fatto due grandi parate, quindi grande merito anche suo. Come hai trovato il Toro? Che squadra ti è sembrata? Secondo te è una squadra che può ancora ambire all'Europa? Beh, è una squadra benissimo organizzata, a grandi individualità e diciamo che sì, sicuramente può ambire a grandi palcoscenici. Soltanto che quest'oggi noi ci siamo fatti trovare molto pronti, siamo stati bravi comunque a metterci là dietro, essere solidi e abbiamo portato un punto importante fuori casa.